E' in partenza dal quarto binario l'Intercity 412 per Milano Centrale. Quando mi guardi tu non lo sai cosa vuoi o si, stracciamo sto letto e tu mi guardi negli occhi come se fossi uscita a modo a un caffè scorretto ed è orrendo tutta questa fila solo per pagarti la cena con la solita scusa ti portano a casa per poi ritrovarti distesa e dimmi 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 cosa vuoi tu il fondo cassa io il fondo schiena perché in fondo cosa ci resta se non andare a fondo costa con o cera sul letto atterro sul tetto decoglio atterro sul petto ritardi arrivi ti aspetto. Quando mi guardi non lo sai cos'è che vuoi vorrei sapere come mai sei qui con lui sono il silenzio intorno a noi e i barci tuoi saranno musica per noi anche se vuoi. quando mi guardi non lo sai con quegli occhi mi parli intrecciamo sguardi con quelle gambe scavalchi intorno come falchi tutti un po' stanchi lanciano sguardi ammicanti e tu resti seduta mentre leggi bog piera dei tuoi spasimanti tutti molto affamati dai dai e non può lascia mangiare anche gli altri e lascia stare che fa caldo in pista metti qualcosa su sta bella vista tutti che sbavano mettimi in lista contro profumo tuoi un esorcista e copri che cala la vista prometti che ritorni vai tutti in coro ti guardano e fanno quando mi guardi non lo sai cos'è che vuoi vorrei sapere come mai sei qui con lui solo il silenzio intorno a noi solo il silenzio intorno a noi e i barci tuoi saranno musica per noi anche se poi quando mi guardi non lo sai cos'è che vuoi vorrei sapere come mai sei qui con lui con lui solo il silenzio intorno a noi e i barci tuoi e i barci tuoi saranno musica per noi anche se poi quando mi guardi non lo sai quando mi guardi non lo sai a noi e i barci tuoi e i barci tuoi Grazie a tutti